Materie prime critiche, i rischi di approvvigionamento nell'attuale contesto economico e geopolitico, i possibili scenari evolutivi e il contributo che possono offrire i settori dei RAE e dei rifiuti di pilo accumulatori. Questo è il tema dello studio realizzato per Avion da The European House Ambrosetti, che verrà presentato mercoledì 15 giugno in diretta streaming a partire dalle 16.30 sul nostro canale YouTube. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!